E finalmente si parte. Io sono Luigia, sono la presidente di NED, ed è l'associazione che ha scritto i Town Twinning che abbiamo vinto. Il primo avrà il suo kick-off il prossimo 7 febbraio alle 17 nel comune di San Felice del Molise. Perché? Perché San Felice del Molise è il capofila, insieme alla città croata di Zara, di questo progetto europeo che si prefigge l'obiettivo di valorizzare le minoranze linguistiche. Si chiama Words Create Words perché le parole creano mondi e proteggere le parole, proteggere le minoranze linguistiche significa avvalorare l'obiettivo europeo uniti nelle differenze. Vi aspettiamo a San Felice del Molise o anche online, vi daremo il link per lavorare con noi ad una carta di sistema che possa diventare una carta europea per valorizzare le minoranze linguistiche e tutto il loro portato di cultura e di rispetto, perché l'Europa significa rispetto. Grazie.